Dopo gli ingenti danni causati dal nubifraggio dello scorso gennaio e quantificati in diversi milioni di euro, il Comune di Modica corre ai ripari e individua, dopo le ricognizioni dei tecnici e dei pareri del Dipartimento regionale della protezione civile, le opere strutturali da realizzare per prevenire il rischio idrogeologico connesso a futuri e possibili eventi calamitosi di tale portata. La cifra necessaria alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio è di 13.820.000 euro, che il Comune di Modica invierà alla Regione per la richiesta di finanziamento. Tra le opere individuate, la sistemazione idraulica e regimentazione delle acque del torrente Passogatta, compresi i tratti di alveo coperto di via Fontana ed il raccordo con l'area dell'ex foro Boario. Il torrente si presenta attualmente privo di doni e argeni e di bacini di calma, e poi la sistemazione dell'alveo San Silvestro Rassabia-Fasana e riconfigurazione strada comunale Limitrofa. Il corso d'acqua confluisce nel torrente Passogatta e corre affiancata alla strada comunale Fasana, senza argini ed opere di protezione e attraversamento per l'accesso ai fondi rurali o alle abitazioni, ricompresa anche la sistemazione idraulica e diversanti della zona torrente San Liberale, il cui tratto scoperto si sviluppa all'interno del centro abitato per circa 500 metri, ed è utilizzato come sede viaria di accesso a locali artigianali, commerciali e abitazioni. Inoltre è previsto il prolungamento della copertura dell'alveo fino al Ponte Vecchio con sistemazione della Via Tirella, e poi ancora le opere di adeguamente salvaguardia dell'impianto di depurazione, mediante sistemazione idraulica del torrente Modica Scicli, al fine di salvaguardare lo stesso da sovraccarichi che potrebbero danneggiarlo e vanificare i processi depurativi, con conseguenze sull'ambiente ed infine l'attivazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche del tratto compreso tra via Risorgimento e l'ultima traversa sinistra della via San Giuliano. Ad oggi esiste un collettore ma non è mai stato messo in funzione.